Oggi parliamo di to bother someone, che vuol dire disturbare qualcuno, dare fastidio a qualcuno. Does it bother you that he's out with his friends? Quindi ti dà fastidio che lui è fuori con i suoi amici? Allora, ti dà fastidio? Sì o no? It doesn't bother me what people think. Non mi dà fastidio, non mi disturba che cosa pensa la gente. Cioè non me ne frega una mazza. Don't bother your father when he's working. Ok, non dare fastidio, non disturbare tuo padre quando sta lavorando. Ok, va bene, posso parlare così all'infinito? Però dopo un po' da fastidio. It bothers me to speak like this. Attrape my scholar! Ho! 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 Grazie a tutti.